Benvenuti cari amici in Metropoli su Rete Montreal, è il tempo di occuparci un pochettino anche del nostro buon umore e chi meglio di un artista che ci lavora su come Enrico Rennella che torna in Canada dopo quanto tempo? Dopo due anni, l'ultima volta che sono stato a Montreal è stato nel 2012, novembre 2012, con il mio spettacolo in Uscunizza a Montreal E che ci faceva in Uscunizza a Montreal? Vabbè, in Uscunizza a Rob Sem, però io non ho fatto questo, ho fatto ridere un po' la gente che mi è venuta a trovare che ringrazio sempre, che vengono sempre più numerose al teatro e adesso torno con questo nuovo spettacolo che si chiama L'amore all'italiana Io ti blocco subito perché voglio che i nostri tre spettatori comincino a conoscerti un poco meglio perché tu hai i radici un po' dappertutto, insomma Un napoletano sì, ma un napoletano di dove? Allora, papà è napoletano, ecco qua Mamma è francese, è parisienne Sì, però sono cresciuto a Napoli Dove? Napoli città, sono del Vomero Bello dire del Vomero Però, vabbè, gli origini sono di Scampia, conosciuto proprio in tutto il mondo per il turismo Un po' vicino, tranquillo Sì, sì, bravo Possiamo paragonarlo a Baghdad, diciamo, ecco qua La Baghdad italiana? Sì, napoletana Senti, la tua vena artistica si è diretta subito, sin da ragazzino, verso l'umorismo? Allora, la verità, ecco ti rispondo con una cosa Sono nato il primo aprile Allora, non c'è niente di vero in quello che abbiamo detto Sono nato il primo aprile, coincidenza non lo so Però è vero che da bambino lo mettevo in coppa a naseggi A casa, con tutta la famiglia E facevo sempre ridere E pian piano, pian piano ho preso il coraggio di andare sul palco, al teatro E si è avverato la mia passione, il mio sogno che riesco a vivere Grazie alla gente che viene Ecco, quando è stata questa prima volta? La prima volta è stata proprio professional, come dicono Il mio proprio professional è stato a Napoli nel 98 E nel 2009, no, 2010, scusatemi È stato la prima volta a Toronto poi, in Canada Quindi la prima volta fuori proprio o la prima volta a Toronto? No, la prima volta a Toronto La prima volta fuori era nel 2009 in Francia, a Parigi E poi sei tornato sui tuoi passi? Voilà, ho preso il croissant e poi un cioccolato No, qua si mangia... No, in Francia ci mangiamo il croissant e un po' di cioccolato Qua invece si mangia una Poutine, come si chiama, che la cosa è tutta strana Sorvoliamo, sorvoliamo Senti, ma come convivono queste due anime, francesi e napoletani? Allora, è un bel mix, è un bel mix perché, ecco, il mio spettacolo parla dell'amore E mostro questa dolcezza alla francese, alla parigina proprio Però poi con il saper parlare all'italiana è poco nervosismo alla napoletana Quello proprio è il pizzicorio che ci vuole Ecco qua, ci vuole un po' di piment Et voilà Senti, parliamo di questo spettacolo per il quale sei tu presente in Canada In particolare a Montreal, il 14 giugno, se non sbaglio Ehi sbagliato Ebbè, qualcuno deve sbagliare qua Maglio che sbaglio io che sbagli tu, no? Ecco qua, il 15 giugno, scusatemi Che è la festa del papà, se non sbaglio A Leonardo da Vinci Al teatro Saputo Non so se l'avete saputo, ma E mo' lo sapete Ecco qua E questo spettacolo è un... A me non piace fare la basic, diciamo, stand-up comedy Perciò c'ho una band che mi accompagna Faccio un mix di musica e di comicità Perché piace cantare, qualsiasi napoletano canta Però poi c'è l'opening act dello spettacolo con un guest che è conosciuto qui Che si chiama Daniel Panetta Che so, sono molto fiero di avere nel mio spettacolo Sarà un bello spettacolo, dovete vedere, ma proprio è bella Senti, ma la tua band dove te la sei messa? In valigia? No, l'hai abbandonata in Coppa Allai No, sono ragazzi italo-canadesi, sono bravissimi Li ho trovati a Toronto, li ho conosciuti a Toronto E adesso viaggiano con me per tutto il Nord America Molto bravi, molto bravi Ecco, non vogliamo anticipare niente sullo spettacolo Però dici almeno qualcosa sulla tua comicità, in particolare E anche il tuo tono musicale, qual è? Il mio tono musicale? Non so se piacerà Perché a me mi dicono, quando canta mi pare Gigi D'Alessia Gigi D'Alessia, quando canta se la mente sempre Canta così, oh 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 Però a me piace Gigi Sta per piangere Ecco qua, sì sì, infatti Pure una tarantella la fa in modo suo Sembra che è una lamentella, non è una tarantella Poi lo spettacolo, vabbè Ovviamente farò i paragoni dell'amore all'italiana E quella nordamericana Vi do un esempio veramente veloce Della donna canadese che per San Valentino ha un regalo È tutto bene, va tutto ok Invece la donna napoletana è furba E ti fa quella cosa, è una trapple Ti dice amore, ti raccomando per San Valentino Non ci facciamo regali Chi sta in un codice? Ci vuole un translator Questo significa amore, se per San Valentino non mi fai un regalo Scusate ma parola, ti faccio un ucculo tanto Quindi il messaggio deve passare Ecco qua, deve passare, sì Senti, hai previsto, anzi stai facendo un tour Sei già stato a Vancouver, se non sbaglio Sì, ho fatto tante città Ho fatto, vabbè, Toronto Tutto intorno all'Ontario, Hamilton London, London, queste cose qua Queste città Sono tornato adesso da Vancouver È andato benissimo Saluto se ci vedono Non lo so E adesso c'è Montreal Ma Montreal mi piace perché Non so perché la sento più attaccata all'Italia La sento un po' più moderna Ma mi piace, mi piace Montreal Più europea Più europea Senti, prima che ci lasciamo Devi dare il tuo sito internet Dove prendere informazioni, rapidamente Allora, www.enricorennellaco2n2l.net O se no chiamate al centro Leonardo da Vinci E di quello poi metteremo anche il numero noi Li informeremo Grazie Enrico Grazie a voi E buon show Grazie, ciao Ciao a tutti